Scusate, dobbiamo interrompere la selezione delle partite di Serie A che verrà comunque ripresa tra poco per una ragione veramente tremenda. È morto Gaetano Scirea. Proprio a loro bisognerebbe raccontare chi era Scirea. Perché c'è stato un giocatore, un libero, che ha giocato 552 partite con la maglia della Juventus e 78 con quella azzurra, senza mai venire espulso. C'è stato un giocatore che non aveva bisogno di picchiare perché sulla palla arrivava prima. C'è stato un giocatore, un fuoriclasse, che ha vinto tutto, 14 titoli con la Juventus, tutte le coppe, 7 scudetti, campione del mondo di club e con la nazionale nell'82, il libero italiano più forte e vittorioso di tutti i tempi. C'è stato un giocatore che andava in vacanza in Liguria a Ceriale con la famiglia e per firmare gli autografi si fermava vicino alle cabine per non infastidire i vicini di Ombrellone. C'è stato un giocatore che era capitano, leader, uno rispettato da tutti i compagni e avversari.